Ciao a tutti! Oggi prepareremo le melanzane trifolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane dagli adattocchetti, olio evo, aglio, sale, pepe, basilico e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico e il prezzemolo e l'aglio. Li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riumiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi a velocità 3. Riumiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le melanzane, il sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il cestello al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 30 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Le melanzane sono pronte, trasferire in un piatto da portata e servire. melanzane trifolate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!